Vittorio Sgarbi, il critico d'arte per eccellenza nonché personaggio della tv italiana, pensate che è diventato il sottosegretario alla cultura per quanto riguarda il governo Giorgio Ameloni, il governo presieduto dalla donna che è Giorgio Ameloni. Vi ricordo infatti che ci sono state le elezioni dei nuovi sottosegretari e proprio Vittorio Sgarbi, personaggio di punta, chiave della politica come anche della tv italiana, ha ricevuto l'incarico di diventare a tutti gli effetti il nuovo sottosegretario alla cultura. Nello stesso Sgarbi avrebbe detto di recente che chiamerà Morgan al secolo Marco Castoldi, l'ex leader del Blu Vertigo, per andare ad amministrare il dipartimento musica. Nello stesso Marco Castoldi, il sistema Morgan avrebbe risposto, io sono pronto, quindi sembra proprio che c'è un ok da parte di Morgan al secolo Marco Castoldi, ex leader del Blu Vertigo. Vi ringrazio per l'ascolto, lo stesso Sgarbi avrebbe aggiunto, è giusto e importante che si crei nel Ministero della Cultura un dipartimento dedicato alla musica. Bene, iscrivetevi al canale, che è un narratore italiano, commentate, tanti auguri, buon lavoro a Vittorio Sgarbi, per il futuro che si prospetta buono, nonché abbastanza positivo per voi. Ciao da Leandro, un narratore italiano. P.S. Questo video non vuole rendere la prevasi di Sgarbi, ma solo informare eventuali persone, nel pieno rispetto della sua persona, quindi della sua prevasi. Ciao a tutti da Narratore Italiano.